Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake al mascarpone e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, scorza di limone, vanillina, sale e cacao e gocce di cioccolato. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova, l'olio ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e il sale. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. versare metà del composto in uno stampo da plum cake da 28 x 10 cm ben imburrato. aggiungere al resto del composto il cacao amaro ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. versare il composto sull'impasto chiaro. con una forchetta varieghiamo il composto. mettere le gocce di cioccolato. cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. fare sempre la prova a stecchino. il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. plum cake al mascarpone e cacao. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti!